Per produrre la Reuelto abbiamo capito che dovevamo passare oltre. Mi chiamo Ranieri Niccoli e sono il Chief Manufacturing Officer di Automobili Lamborghini. La Reuelto è una macchina ibrida, è una macchina molto customizzabile, è una macchina ovviamente artigianale. Abbiamo creato quella che chiamiamo Manifattura Lamborghini Next Level, abbiamo alzato l'asticella, quindi parliamo sempre di un sistema di produzione che ha al centro l'uomo, i nostri operatori. Quando siamo partiti a progettare la Reuelto avevamo in mente una strategia produttiva molto chiara. Volevamo una fabbrica verticalizzata, digitale, flessibile e sostenibile. La maggiore verticalizzazione dei processi produttivi ci permette di offrire al cliente una maggiore possibilità di personalizzazioni e anche più alte performance. La selleria è il fiero all'occhiello della Manifattura Lamborghini. Qui realizziamo gli interni delle vetture. Nel reparto c'è una perfetta coesione della parte artigianalità unita alla digitalizzazione. La personalizzazione è stata ampliata e il ruolo diventa centrale soprattutto nel progetto Ad Personam in cui ai clienti è data la possibilità di modificare materiali, colori e ricami all'interno delle proprie vetture. Abbiamo implementato nuovi macchinari come il controllo digitale della pelle che ha portato un'evoluzione nel nostro campo perché permette di non dover pulire la pelle dopo aver segnato i segni. Anche la macchina del taglio è stata cambiata con una macchina più performante, più precisa che permette il risparmio anche di quantitativi di pelle superiori rispetto a quello che veniva fatto con il processo precedente. In selleria, nonostante la digitalizzazione, le persone rimangono al centro. La manualità e l'artigianalità del nostro prodotto rimane il punto focale su cui puntiamo l'intero reparto e mettiamo nelle nostre vetture. Dai colleghi del Centro Stile che progettano, disegnano per la prima volta i nostri nuovi modelli La palla poi viene passata all'ingegneria che li progetta, quindi non solo le superfici esterne ma anche materiali, spessori, punti di fissaggio. Noi fondamentalmente siamo la parte di qualità che assicura che anche durante la progettazione i requisiti del cliente, importanti per il cliente, vengano garantiti e siamo i primi a ricevere i pezzi una volta prodotti. Fondamentalmente il mio lavoro con tutto il mio gruppo, che è un gruppo di circa 30 persone è quello di riuscire a migliorare, a portare i pezzi che vedi in tutta la vettura quindi sia gli interni che gli esterni, al meglio possibile, alla perfezione. Questo come lo facciamo? Misurandoli, osservandoli, quindi valutandoli con l'occhio di persone certificate, specializzate nella valutazione delle superfici, valutandoli in diversi colori, in diversi materiali e quindi assicurando poi, oltre all'aspetto estetico, anche la parte funzionale quindi facciamo dei test distruttivi, dei controlli non distruttivi, soprattutto per il carbonio. La produzione del carbonio è iniziata in Lamborghini appunto più di dieci anni fa con la Ventador ed è diventata una delle nostre più grandi expertise, sia dal punto di vista di progettazione e ovviamente dal punto di vista di produzione. Quindi parliamo di presse da 5.000 tonnellate, da 2.500 tonnellate, che producono il Forge Composite o il PCM, quindi il Pre-Preg Compression Molding. Quindi sono attività che alla fine concorrono a realizzare la vasca e poi la stessa monoscocca che viene completamente fabbricata qua a Sant'Agata. Il carbonio è uno degli elementi fondanti della Lamborghini. È assolutamente importante e sempre più importante per il rapporto tra performance elevatissime e peso ridotto. Utilizziamo varie tecnologie, dalla tecnologia di preimpregnato manuale, che richiede una profonda conoscenza manuale delle operazioni, fino a tecnologie di pressa ad alta pressione, dove il materiale viene, all'interno di stampi d'acciaio, viene pressato ad altissima pressione per realizzare gli elementi strutturali della vettura. Il processo veramente innovativo all'interno del progetto Revelto è il largo uso della fibra corta. La fibra corta, o come viene chiamata da noi il Forge Composite, è la realizzazione di componenti appunto con una fibra di carbonio che è molto versatile dal punto di vista anche dell'amministratura, quindi consente di avere le performance meccaniche di una normale fibra di carbonio, riducendo drasticamente l'impatto ambientale e i costi di produzione. Rispetto alla tecnologia classica dell'autoclave, questa fibra, il Forge Composite, viene processato con delle presse, dove anche qui la combinazione tra pressione e temperatura permettono di avere delle forme sì complesse, ma strutturalmente molto resistenti. Con la monofuselage della Revelto infatti riusciamo ad avere un 20% di rigidezza torsionale in più rispetto al progetto Aventador, con un 10% in meno di e-peso. Alla forte impronta artigianale abbiamo cercato di associare anche temi di innovazione, digitalizzazione e automazione, quali ad esempio l'introduzione del MES, il nostro sistema gestionale, che ci permette di assicurare la massima rintracciabilità di ogni fase e parametro del processo e in qualche modo rappresenta la storia di ogni componente prodotto qui da noi. Ci troviamo in una delle climatic room del CFK, dedicate al processo di laminazione prepreg, nelle quali realizziamo in particolare il cofango e il cofanetto. Il processo di laminazione è la core competence del CFK, nelle quali artigianalità e manualità sono le protagoniste assolute, infatti all'interno di questo processo abbiamo circa il 36% della nostra mano d'opera, tra l'altro a netta maggioranza femminile. Le persone sono altamente specializzate e formate, pensate che per chi lavora su reparti nuovi come l'ibrido o in attività manuali come sellerie e motore, sono previste più di 500 ore di training. Inoltre, grazie a tecnologie come gli AGV e il MES, la linea è modulare. Questo significa che rispetto a una capacità installata di 7 vetture al giorno, in futuro la stessa linea potrà aumentare di capacità e avere un mix di modelli differente. La linea è composta da 15 stazioni e si divide in primo tratto, dove abbiamo prevalentemente montaggi di tipo meccanico, e secondo tratto dove invece montiamo componenti di carrozzeria. Un'ulteriore sfida che abbiamo reso possibile in questa linea di montaggio è la flessibilità. Questo è stato grazie all'introduzione di AGV, che sono, come potete vedere, dei veicoli a guida automatica che permettono di rispondere in tempi rapidi a cambiamenti di volumi produttivi, model mix o esigenze di produzione. Nella stazione alle mie spalle, con la stessa logica del mariage front frame, viene eseguito l'assemblaggio della batteria di alta tensione all'interno della zona centrale della scoca. La linea è dotata di un conveyor che consente ad ogni operatore di sollevare la vettura in ogni stazione per svolgere le operazioni necessarie. Noi abbiamo una linea completamente nuova di assemblaggio del motore, del V12, flessibile, che nel futuro potrà ospitare anche ulteriori eventuali motori, che ha delle componenti automatizzate, come dei robot collaborativi, che ci permettono di garantire la massima precisione in attività che appunto richiedono, come sigillature, la massima ripetibilità. Il motore elettrico rappresenta la reale novità in automobili Lamborghini poiché è il primo ad essere assemblato internamente. Il montaggio prevede la preparazione di una coppia di riduttori, successivamente i riduttori vengono assemblati con motore elettrico ed inverter, a creare la sale elettrico. La sale elettrico viene poi testato al 100% in un nuovo banco di end of line che realizza diversi test. Un test statico, un test dinamico, un test NVH per verificare le rumorosità e un test a carico che simula il circuito di Nardò. L'innovazione tecnologica non caratterizza solamente la linea del motore elettrico ma ha rivoluzionato anche la linea del motore termico che è costituita a sua volta da tre principali rami. L'area di preassemblaggio in cui prepariamo pistoni, teste e collettore di aspirazione modernizzata tramite nuovi impianti di tenuta. La linea del motore termico costituita da sei stazioni in cui si muovono automaticamente gli AGV. Infine è presente l'area delle sale prova nuove e del powertrain in cui il motore viene testato tramite rodaggio e curva di potenza e successivamente accoppiata al cambio. Dal 2010 abbiamo iniziato un cammino che ci ha permesso di arrivare nel 2015 ad essere uno stabilimento CO2 neutrale certificato. Impianti fotovoltaici nei nostri tetti e nei nostri parcheggi, impianti di trigenerazione che ci permettono di produrre elettricità ma anche calore e freddo da uno stesso vettore energetico, edifici di classe A o comunque ad altissima efficienza energetica, un impianto di teleriscaldamento che ci permette di avere acqua calda da un impianto di cogenerazione che è situato a 8 chilometri da Sant'Agata. Abbiamo un bosco Lamborghini di 7 ettari a 500 metri dall'azienda dove con le nostre api produciamo del miele. Le api sono una delle sentinelle più importanti per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico. Tutti i nostri impianti industriali, a partire appunto dal 2010, sono stati pensati cercando di minimizzare l'impatto e anche con la Reuelto abbiamo mantenuto, nonostante un ampliamento dell'azienda, della fabbrica, di più di 20.000 metri quadri coperti. Ecco, nonostante questi interventi, siamo rimasti e rimaniamo orgogliosamente ancora CO2 neutrale. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS